E da Rezzonico Auto parliamo di sconti veri sulle vetture chilometri zero, fino al 40%. Esempio di corsa, GS Line o Elegance, scontata fino al 24%, super accessoriata. Crossland, allestimento Advance o Innovation, Full Optional, scontate fino al 33%. E ora passiamo alla miraglia di Opel, Opel Insigna, scontata fino al 40%, una vettura fantastica. Venite a vederle e provarle da Rezzonico Auto. Grazie.